Il piano industriale di Gindal dovrebbe essere presentato dal vicepresidente Marco Carrai il prossimo 15 settembre, insomma si spera che sia la volta buona. Quella che vedete alle mie spalle è la acciaeria, lo storico polo siderurgico che non ne dovrebbe però meravigliare più di tanto se nei prossimi anni non fosse dedicato soltanto alla produzione di acciaio. Un rigassificatore, un centro di restyling per grandi navi, la realizzazione di un eppolo di costruzione traghetti e persino la produzione di energia pulita attraverso l'installazione in mare di un considerevole numero di pale eoliche. Sono le anticipazioni filtrate dallo staff del vicepresidente esecutivo di JSV che ha comunque confermato anche l'impegno ad andare avanti con un forno elettrico per la produzione dell'acciaio. Potrebbe essere interessante se c'è un piano industriale riguardo alla sediologia. Cioè nel senso, è chiaro, la sediologia non potrà essere da scenerento che dovrà avere ancora un senso, avere uno stabilimento di queste dimensioni e quindi noi ci aspettiamo un piano industriale il 15 che non sia, o meglio, che sia riempito anche di altre attività ma che soprattutto ci sia un'idea chiara di dove si vuole andare sul piano della sediologia. Un progetto decisamente molto fumoso che comunque al momento consentirebbe all'azienda di non licenziare nessuno dei 1.800 dipendenti in forza alle acceerie. Grazie a tutti! Grazie! Grazie! Grazie!